L'obiettivo è quello di difendere il diritto alla salute e di farlo con una protesta significativa che non ammette più sconti e giustificazioni. Una dura lettera aperta diffusa dal Comitato Voglio Nascere a Termoli è rivolta al Presidente della Regione Donato Toma per renderlo partecipe di quanto emerso nel corso dell'ultima Assemblea sulla Sanità e alla quale il Governatore era stato invitato. I sindacati, gli utenti e gli stessi operatori ospedalieri sono sul piede di guerra in quanto esasperati da una politica povera di contenuti e talvolta addirittura vessatoria nei loro confronti. Questo quanto riportato nella lettera in cui si annuncia una posizione unitaria per una concretazione di sfiducia nei confronti dell'amministrazione regionale. Poco importa a questo punto, scrivono dal Comitato, se la colpa sia da attribuire esclusivamente a questo oppure alle precedenti amministrazioni perché, anche se solo in maniera simbolica, la renderemo addirittura retroattiva. Per i rappresentanti di Voglio Nascere a Termoli è arrivato il momento di smetterla di giocare a Indiana Jones alla ricerca del disavanzo perduto, ma di iniziare a illustrare e mettere in atto tutte quelle soluzioni che sarebbero dovute entrare in scena dopo la firma del fatidico patto della salute, ricordando poi che durante l'Assemblea ci è stato esplicitamente chiesto di renderci promotori della caduta del Governo regionale. Nella lettera indirizzata a Toma si ricorda la recente iniziativa del Comitato Santimoteo per chiedere l'annessione dei centri del Basso Molise all'Abruzzo, ma anche una class action per chiedere il rimborso delle spese versate dai cittadini per ripianare i disavanzi della spesa sanitaria causati, si osserva nel documento, da scelte politiche e amministrative irresponsabili, annunciando anche di voler rivolgersi alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. La nostra posizione è chiara, conclude la lettera di protesta del Comitato Voglio Nascere a Termoli, ricordando che non si rimarrà inermi a piangere per i nostri figli, ma si lotterà fino ad arrivare alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.